Ciao, sono Alessandro, ho 12 anni, frequento la seconda C, faccio i miei media perché voglio imparare qualcosa sui computer e condividere la mia esperienza con le persone che leggeranno il giornalino. Ciao, sono Lorenzo e frequento la seconda C e da quest'anno ho deciso di fare UEMedia perché mi piace molto scrivere e voglio stare con i miei amici. Ciao, mi chiamo Andrea, frequento la seconda A, UEMedia è un'attività molto bella, ho deciso di farla perché mi piace utilizzare il computer, lo consiglio a tutti, ciao! Ciao, mi chiamo Ludovica, sono una studentessa di seconda A e da quest'anno frequento il corso di UEMedia perché scrivere articoli è sempre stata la mia passione. Ciao! Ciao, mi chiamo Riccardo, sono uno studente di seconda C e da quest'anno ho deciso di frequentare UEMedia perché mi piace scrivere in modo giornalistico e usare il computer. Ciao! Ciao, mi chiamo Edoardo e sono in seconda media. Ho deciso di fare UEMedia perché volevo velocizzare la mia scrittura al computer e per imparare a montare i video. Io sono Filippo, un ragazzo di terza e ho iniziato a fare UEMedia perché mi sembrava un lavoro interessante e in particolare mi interessava imparare a montare i video da poi caricare sopra il sito. Ciao, sono Alessandro, frequento la terza B e già dall'anno scorso faccio parte della redazione di UEMedia. Frequento il corso di UEMedia perché mi piace molto usare il computer e vorrei imparare nuovi metodi per scrivere testi. Ciao! Ciao!